La festa siamo noi con Elisa Somolina, ospite di un programma televisivo molto famoso, e è venuta qui a insegnare ai bimbi qualcosina di nuovo, qualcosa di nuovo? Sono venuta qua da Torino per insegnare i bambini a fare i biscottini e le crozzatine, quindi la pasta brolla. Abbiamo appena finito di fare un pasto, devo dire che sono stati bravissimi, sono molto contenta di essere qua e di aver conosciuto le spiruline che mi hanno accolto in una maniera straordinaria. Ho visto i bambini molto impegnati, si sono divertiti. Poi Elisa, Elisa, Elisa! Però è stato veramente bello. Adesso però è ancora finita perché dobbiamo fare crozzatine. Adesso abbiamo fatto l'impasto. Ora facciamo crozzatine, biscotti, tutto quanto. Perfetto, così vediamo... dopo assaggiaremo anche. Devi assaggiare per capire se è buono, no? Va bene, Elisa. Grazie a tutti! Grazie a voi! Grazie! 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 Grazie a tutti!